Ciao a tutti ragazzi, ecco ci siamo salutati un attimo fa, va bene allora riprendiamo perché abbiamo lasciato Lian ed Elena qui insomma a mollo nell'acqua, fanno un bagnetto, insieme così, appassionatamente e vabbè ce la fai Iris, sei pronta, sicura? vogliamo affrontare questo, insomma proviamo mi arrivano messaggi, vabbè non ci fa niente, andiamo 1, 2, 3, via 1, 2 come è bello Annegar, in fondo al maàr vabbè è inutile che prendiamo Aria qui qui lo prendo fiat perché si io no, lo prendo qui perché c'è un passo più avanti che cazzo c'era ho fatto una checcata Elena si è fermata un attimo a pensare insomma ho a sua sorella attenzione mi stanno prendendo mi stanno negando aria fresca oddio mi ricordo un po' di un rider segui fai l1 ancora ancora questo qua che mi vuole insomma farà negare levati dal cazzo ancora? ma che? ma non ho rotto il cazzo che non ho grazie non ti posso dire nulla perché siamo sott'acqua però troppo a voce grazie uh 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 dei punti vabbè dei punti rischio l'annegamento pur di prendere dei punti io me ne sbatto dei punti e vado avanti anche perché ma guarda guarda che c'è? c'è uno che mi annega ecco no poi io ti fermo di vista ma non ho mai fiorissima vieni vieni forse dobbiamo aprire qui insieme perché altrimenti ne vediamo si muove sta cosa colena vabbè vabbè un bacetto che sfortuna ma non mi dire è anche questa andata adesso c'è un problema ecco là io non li ricordo mica quindi insomma poi giocando sia su xbox che su playstation ovunque si quindi ho tutti i tasti confusi in testa praticamente ok ma questo ce l'ha anche su one si ecco qua è diventato monocchio uuuu insomma è neon neon hop in tutto questo in tutto questo non stiamo annegando ecco abbiamo l'aria infinita la riserva d'ossigeno dettagli riso che Lara Croft l'ora ok eppure l'altro occhio è andato adesso è completamente orbo riceverà anche lui la pensione per insomma handicap molto bene un punto per arrampicarmi un punto per arrampicarmi un punto per arrampicarmi forse tu mi devi aprire qua io non lo Elena please Elena non voglio morire Young Elena c'è un un emblema ok dopo lo prendi l'emblema io annego annego so per finire nella pancia del cosetto e lei pensa l'emblema sussi di rion attenzione devo puntarlo Elena oh cazzo oh cazzo rion 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 mi sto infartuando leon e beh ma se sto facendo x se sto facendo x ma ha preso ma come ha fatto eh falla ma ha pure digerito io lo sto facendo x ottimo iris ho bisogno di una mano come dice leon aspetta solo che dove mi metto per beccarlo di qua che lui arriva da là siete tutti testimoni del fatto che Iris mi lascia crepare malissimo ecco hai visto che è colpa tua sono crepata per colpa tua un'altra volta Iris un'altra volta non se l'ho accusato basta ancora oddio no ti prego non ce la faccio se per fare un'altra cosa come tu dov'è è lì aiuto dai oh gesù cristo oh madonna vabbè eh lo vedo anche io che è coming eh grazie ma ce la fai lì la fai lì gentilissimo che fatica devi venire da me di cui c'era l'emblema sì no ottimo che salgo troppo responsabilità troppo responsabilità basta mi ha fatto morire Iris malissimo pure che cosa è sta roba sì io che mi incastro nelle cose molto bene molto bene allora ancora indietro qui da qualche parte qui dovrebbero essere dovrei vedere i resti giusto forse ancora indietro mi sa che più indietro di così no no era qua allora era vicino al cancello forse quando io ti ho detto l'emblema e tu mi hai detto guarda io muoio e tu qui da qualche parte eccolo qui ecco vediamo se riesco prendendolo così ovviamente rion non ce la fa col coltello ah ce l'abbiamo fatta meno male l'ho dovuto riprendere anch'io perché l'avevo fatto non l'avevi preso sì prima l'avevo preso però poi sono muerta sento rumori rumori che non mi piacciono sono scesi con molta grazia molta eleganza non mi fa fare cosetto holena sai che mi sembra che ce n'era uno anche no se faccio impossibile oh crebio e vabbè no 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 ok mi chiamavo non revolver o leon direi che è finito anche questo capitolo ci ritroviamo poi in cina no sei uscito dalla partita vabbè tanto è il filmato finale intanto stanno ancora facendo le cose strane pronto pronti pronti 2 minuti che vuole dare guarda che c'è l'ora alla vanguardia noi non abbiamo provole provole si ma hai dei capelli di merda però poraccia avevano speso tutto per l'ion anche elena non scherzo una morte a causa tua ricordiamolo ho preso a io io s as come mai ho preso a i nemici quanti nemici 97 61 e beh e beh va bene direi di finire qua di terminare direttamente se infatti anche per la zerata perché è avveruto un sonno che non reggo più è troppo è troppo disagio è troppo brutto questa parte però è durata poco qua dice circa 13 minuti 48 minuti in totale capito vabbè in caso vabbè niente vabbè allora salutiamo tutti un bacione da gil valentina vabbè tra parentesi anche iris iris dà un bacio no io dai iris bacia molla questo bacio escilo 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 oggi ho uscito io in diretta vabbè un altro bacio da parte di iris lo do io per te allora alla prossima ragazzi sì non so se giocherò ancora con te visto che non hai mollato il bacio vabbè buonanotte buonanotte alla prossima ciao ciao